Adesso stiamo a Reggio Emilia con il caso del pestaggio di un detenuto in carcere. Dopo le impressionanti immagini che vi abbiamo mostrato nelle scorse edizioni, diverse le reazioni. C'è il sindacato di polizia penitenziaria che chiede una riforma, un intervento complessivo sul sistema delle carceri. I servizi di Luca Ponzi. Uno schiafo due pugni, calce a un uomo immobilizzato con un cappuccio in testa. Le immagini che arrivano dal carcere di Reggio Emilia sono così nitide che non hanno bisogno di affrettati commenti. Il 14 marzo ci sarà l'udienza preliminare per i dieci agenti che la procura ha chiesto di processare per tortura, lesioni e falso. Altri quattro sono stati stralciati in attesa del Tribunale del Riesame. Per i difensori un comportamento che può configurare un abuso dei mezzi di correzione nei confronti di un detenuto che aveva già subito 32 rapporti disciplinari in vari penitenziari. E che le guardie dovevano condurre in isolamento dopo l'ennesima punizione molte reazioni al video. L'associazione Antigone che si occupa di diritti nel sistema penale si costituirà parte civile. Fiducia nella polizia penitenziaria che ha svolto le indagini da parte del procuratore di Reggio Emilia Gaetano Paci. Giovanni Battista Durante, segretario generale del SAP e sindacato della polizia penitenziaria, ribadisce la necessità di intervenire sul sistema carcere. Stiamo facendo corsi di formazione per la polizia penitenziaria proprio per gestire al meglio la sicurezza. All'interno delle carceri c'è bisogno anche di più educatori, psicologi, assistenti sociali che soprattutto con quei detenuti meritevoli che possono intraprendere un percorso di rieducazione siano attivi all'interno delle sezioni detentive. D'altronde sovraffollamento e mancanza di personale sono due temi che il Garante Nazionale per i detenuti ha affrontato proprio ieri pomeriggio in un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.